ok dai doji che guardano l'ingresso della villa vi guardano e vi fanno passare e entrate in questa casa estremamente sobria ma molto elegante come un po' tutto quanto questo contesto idilliaco sicuramente ecco il come dire questa cornice mette il chizune in un ambiente al quale probabilmente non sei familiare dopo un anno passato come dire in servizi ai templi boschivi e cose del genere ecco qui sembra come di essere in un presepio per darti un riferimento assurdo e tangibile tutto così stranamente in ordine tutto così stranamente pulito ti manca quell'ordine naturale delle cose anche i giardini sembrano sono estremamente domestici anche le foglie degli alberi sembrano per assurdo pettinate a tal proposito se noi abbiamo un dono e chizune si sente quasi un po' un po' sciocco con il dono che ha vedendo questo giardino super curato con le siepi tagliate al millimetro però a chi lo dovremmo dare se abbiamo un dono con il quale presentarci a lei sicuramente beh allora lo prendo nelle mie mani sono anche un po' strano però vabbè sono Shugenja dunque è aspettato dunque c'ho anche questo buffo in spalla se me lo hanno lasciato portare dentro no probabilmente in questa prima di entrare come dire lo liberi per richiamarlo poi sai che cosa faccio lo poggio sulla guardia che mi ha obbligato ad abbandonarlo lo poggio sulla spalla non penso che ti obblighino però come dire no no nel senso da quando capisco che è aspettato che io lo lascio fuori lo poggio sulla sua spalla allunghi il braccio e si si ok vedi il Dai Doji un po' un po' inquieto guardare te dopodiché ragiona quanto tempo ci metterebbe a farlo a metà estraendo la spada e quanto ci metterebbe lui a strappargli un occhio e vedi che sta facendo questi conti man mano che ti allontani entrando nella villa si si arrivate dopo una brevissima attesa e tutti convenevoli di sorta a sedere al tavolo con Otomo Sorai è una donna molto alta diciamo alta altrettanto che non a zucco che quindi raggiunge il metro e settanta è estremamente esile però vedete un volto molto affilato e anche le spalle le braccia sembrano estremamente estremamente magra di una struttura molto 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 sottile i capelli sono tagliati corti sulla testa pur con un taglio comunque vagamente femminile ma che non lascia assolutamente niente alla leziosità a sottolineare come direi la sua femminilità un'età indefinita che potrebbe fluttuare tra i 30 e i 40 anni comunque sicuramente un'età matura ma vedete una pella che probabilmente fatica di invecchiare in questo suo composta in sua composta espressione e vi accoglie, vi squadra dei suoi occhi chiari e benvenuti onorabili ospiti in chino in chino in chino in chino ma offerta allo stesso tempo prima di alzarsi metto avanti una scatoletta con il dono dentro e lo offro verso di lei vuoi che giochiamo le tre offerte, i tre rifiuti oppure lo fa con un po' di impacciatezza effettivamente questo scambio probabilmente glielo ha ricordato il suo mentore prima di partire diciamo che lei lo rifiuta la prima volta tu per un attimo come dire ma come lo rifiuta poi dici ah no aspetta devo offrirlo altre due volte hai quel decimo di secondo in cui vedi il tuo maestro col boi in mano che te lo ricorda lo offri altre due volte dimmi come lo presenti quindi alla terza volta in cui poi presenti ufficialmente il dono e lei come dire ci si aspetta che lo accetti comunque a questi rifiuti e così io dico ho fatto tutto questo viaggio con il dono è finalmente arrivato a destinazione no ma questo dono ora deve deve essere diciamo accettato altrimenti è sprecato e cose del genere dunque apro la scatola e dentro la scatola c'è una specie di fazzoletto di seta pregiata con all'interno un seme di un albero della foresta dalla quale vengo dunque un dono estremamente semplice però è simbolico e lo accetta con un con un inchino della testa e dice questo seme darà i suoi frutti come ci si aspetti di ogni cosa che è giovane e con la vita cresca per la gloria di questo imperio e la gloria delle fortune che ci guardano dall'alto dei cieli questo seme avrà un posto d'onore nel mio giardino e quando se le fortune avranno la gloria di vedermi anziane quest'albero cresciuto sarò alla sua ombra penserò a voi Chizune al vostro dono di questo vi ringrazio ma forse no no vai puri su no si si schiarisce un po' sorpreso questa reazione positiva a un dono così semplice lo ha apprezzato effettivamente come sperava che venisse apprezzato e dunque richiude la scatolina e probabilmente viene viene porse a un servo e si ritira nella stessa posizione dei suoi compagni mi scuso per la lunga attesa a cui ho sottoposto alcuni di voi ma ho avuto ordini di conferire con voi solo una volta che foste stati tutti presenti durante la stagione invernale è giunta l'attenzione della corte imperiale una singolare richiesta che è stata valutata degna di attenzione e quindi per questo esaudita io quindi sono semplicemente l'attore di quelle che sono le decisioni prese della corte con il compito di trasferirle a voi due maestre uno delle terre del granchio e l'altro delle terre del leone hanno chiesto la possibilità all'imperatore di potersi scontrare tra di loro mettendo a confronto le loro abilità essendo la cosa soggetta a possibili poi manipolazioni di corte strumentalizzazioni politiche ed essendo questo ben lontano dagli interessi dei due duellanti hanno chiesto all'imperatore appunto la grazia di poter fare questo scontro all'infuori dell'attenzione pubblica per non dettare scalpore o successive conseguenze che vanno oltre quella che vuole essere invece una pacifica confronto tra le arti di costoro dunque quello che vi viene chiesto dalla sua maestà imperiale è di prendervi cura di questo di questo confronto e fare in modo che esso si svolga nella pace nella tranquillità più assoluta come si conviene quando due maestri delle loro arti si confrontano il teatro di questo confronto e vedete che nel frattempo sta leggendo quella che probabilmente è una pergamena che le è stata recapitata con i dettagli di questa cosa il teatro di questo scontro sarà l'isola di Okame nella provincia di Kaze nelle terre della Mantide i maestri coinvolti saranno Kaiyo Izumo e Togashi Fusae dovete provvedere a tutto quanto sarà necessario per lo scontro per tutta quanta la sua durata che si potrebbe attestare alle quattro o sei settimane osservo in religioso silenzio senza muovere un muscolo idem e il mio sguardo finisce su Atsuko invece Atsuko si sta chiedendo se questa strana diciamo questo strano compito che ci è stato affidato perché è particolare non credo che sia una cosa da tutti i giorni non penso che abbiate mai sentito una richiesta simile mi chiedo se anche perché comunque le informazioni che vi sono state date per adesso sono comunque essenziali diciamo mi chiedo se questa spinosa e strana richiesta ci è stata fatta proprio in virtù di quanto è accaduto del sinistro chiamiamolo così accaduto durante il torneo dell'anno passato che comunque ci ha coinvolto proprio noi tre e prendo parola e onorevole Otomo accettiamo servilmente gli ordini e le richieste che l'impero ci fa ma mi occorrono ci occorrono dettagli circa il luogo in cui si svolgerà questo scontro come vi ho detto l'isola è l'isola di Okame è una piccola isola estremamente marginale dell'arcipelago delle terre della mantida nelle isole delle spezie della seta il da quel che ne so l'isola è praticamente deserta a meno di un villaggio di pescatori che dovrebbe contare qualche decina di Emin sarete con tutta probabilità gli unici samurai sull'isola e questo appunto per garantire il totale anonimato e riservatezza di quello che sarà il confronto tra i due maestri molto bene questa cosa puzza tantissimo c'è un c'è c'è un grosso impiccio di qualche tipo c'è una cosa che c'è una cosa che che vi lascia un po' il fatto che ha detto che lo scontro e questo incontro dure la settimana esatto in genere un duello si conclude con l'estrazione a che vi lascia il dubbio che forse non è un duello della natura diciamo formale fatemi se volete un tiro di araldica chi ce l'ha per vedere se avete mai sentito questi due nomi kaiu e zumo e nashibu zae è intelligenza la cosa penso che sia sì è l'or araldica quindi se hai sage puoi usare quello sì sì beh li conosco come fossero fratelli praticamente un ottimo 31 di shiba e vabbè ho dormito una volta su una mappa 34 io tiro un 4 k 3 3 comunque dico eh vabbè ma che tiri è l'anero è un 32 non lo sapevamo ma sono i nostri genitori esatto no beh in realtà non è così facile perché con un tiro di araldica per riconoscere qualcuno è 50 meno la gloria di chi di chi dovete riconoscere no quindi in questo caso dovrebbero avere almeno gloria 2 e no scusate gloria 20 ok comunque diciamo che per prossimità forse shiba qualcosa ne sa e tu sai che Togashi Fusai ne hai sentito parlare probabilmente in uno del delle tue missioni di scorta e più che altro diciamo che puoi escludere che sia un bushi perché è un Togashi quindi è sicuramente un monaco un duello spirituale beh tengo queste considerazioni per me comunque non l'esterno durante il dialogo volevo chiederti io se per caso magari con sincerity o uno skill simile volevo cercare di capire quanto lei sia tranquilla a questo dialogo che magari non vi sia qualcosa sotto che non ci dice sano provare a carpire un po' di nervosismo in caso investigation perception contro sarebbe il suo sincerity awareness ok aspetta investigation perception ok la vedi assolutamente a suo agio lei come dire assolutamente nell'ambito delle sue funzioni diciamo che molto probabilmente non fa questo di ordinaria amministrazione però come dire gestire tre sbarbatelli di fronte a lei non la sta come dire dando nessun tipo di pressione sembra assolutamente tranquilla e rilassata in quello che vi ha da dire ok io faccio una domanda un po' piazzata un po' ambigua ma con un senso specifico e chiedo onorevole Otomo San ma l'impero ci sosterrà nell'organizzare questo lungo scontro la domanda è messa in un modo cioè non parlo di soldi certo ovviamente ma parlo di quelli certo e lei dice nel momento in cui voi avete ottenuto il vostro incarico e siete sotto il servizio delle famiglie imperiali come tali potete compiere le vostre funzioni liberamente in tutto quanto l'impero d'altra parte considerando che la natura di questa di questo intervento e la marginalità del luogo in cui dovrete operare temo dovrebbe andare a pratiche più dirette rispetto a quelle che normalmente ci ha abituato il continente dunque vi forniremo supporto per quanto necessario di questo non non deve aver dubbio come dicevo la richiesta dei due maestri è stata è stata appoggiata nelle alte corti quindi è da considerarsi cosa di grande di grande onore di grande interesse lo svolgimento di questo di questo scontro io immagino la lunga pausa che fa questa donna per pescare la parola interesse dal suo cervello di lungo dieci minuti dopo interesse dice bene ok se avete altre domande sono a vostra disposizione la osservo per lunghi secondi poi schiarendomi un attimo la voce sarà possibile incontrare i due maestri prima dello scontro no appunto andando a cose più pratiche riguardanti l'organizzazione e vedete che di nuovo scorre la pergamena che ha davanti con gli occhi come per aver certezza però è più come dire di scena perché evidentemente lei la sa a memoria l'ha già letta una volta e padroneggia tutte le informazioni di cui ha bisogno ma come dire più che altro per confermare a voi il fatto che vi sta riferendo degli ordini che le sono stati dati scorre con gli occhi questa pergamena e vi dice è previsto che i due maestri Kaiyo e Togashi arrivino all'isola nella seconda settimana del Mese del Drago quindi praticamente è il prossimo mese il Mese del Drago e voi dovete arrivare sul posto quanto prima e quindi mi sono permesso il compito di fermare per voi un trasporto che vi porterà se non direttamente all'isola di Okame all'isola di Kaz a cui Okame fa riferimento come provincia dovete arrangiarvi voi per trovare poi un trasporto locale per quel piccolo atollo sperduto nell'oceano e preparare quanto necessario per i due maestri non voglio offendere sicuramente la vostra intelligenza nel dirvi che dovrete preoccuparvi di tutto insomma siamo veramente ai margini di questo vasto impero dunque le comune pratiche di accoglienza e di ospitalità non sono da dar per scontate il chizzone si spinge un po' come a dire qualcosa come per dovere sacerdotale e si riferisce a questa richiesta della requisita anonimità o riservatezza di questo di questo duello a livello più grande e comunque dice che le fortune comunque guarderanno questo duello e lo vedranno dal paradiso insomma io non so se Atsuko ha capito che ha capito come Shiba che questi sono comunque due Shugenja però non non ci giureresti perché la famiglia dei Kaiju sono notoriamente i costruttori del clan del Granchio del clan del Granchio sono quelli che hanno fatto il grande muro sono praticamente ingegneri ok quindi nella mia mente mia e del personaggio anche si fa largo l'idea che sarà un duello sì ma un duello a chiacchiere è per questo che durerà settimane parleranno ininterrottamente per giorni e giorni bene allora inizio a pensare come costruire un salotto essenzialmente come arena ok beh mi sembra che sia tutto abbastanza chiaro quindi un chino ringrazio Tom Soria e dico che entro la giornata prenderemo il mare il capitano dei doji Bukari vi aspetta vi aspetta al porto avrà sicuramente l'accortezza di attendere il tempo necessario per imbarcare ciò che ciò che vi servirà per questa lunga trasferta nella terra della mantide e tenete questa potrà esservi utile come riferimento vedete che riavvolge con una con mano veloce la pergamena che stava che stava leggendo e ve la e ve la consegna e mi raccomando annuisco alzandomi lentamente come è onorevole con l'inchino sono molto pensieroso quindi vedete che c'è un po' di paternalismo in questa in questa ultima raccomandazione però come dire non è non è sarcastica vuole essere un sincero incoraggiamento nel senso che la situazione per quanto strana è ovviamente sotto gli occhi di persone influenti alla corte dunque di tutto questo lei nel momento in cui vi ha riferito gli ordini non ha più nulla da perdere adesso la palla è in mano vostra se non hanno nulla da dire i miei compagni mi congedo beh una sua raccomandazione per un samurai della mia statura è un ordine e dunque prendo la raccomandazione con più etichetta che posso e mi inchino uscendo all'indietro dalla stanza visto che da quanto ho capito il discorso lei come dire visto il vostro il vostro silenzio e assenso fa un con la testa e poi vi congeda secondo la formula di rito augurandovi sicuramente il sorriso delle fortune nella vostra nella vostra missione e di rivedervi tornare con ottime notizie da qui a quando sarà concluso il confronto tra questi due maestri una volta che siamo usciti dalla dalla maggiore della nobile otomo osservo i due compagni so che avremo molto da fare ma se fosse d'accordo farei una passeggiata anche al di fuori del villaggio beh visto che siamo stati più o meno probabilmente due ore inchinati ad ascoltare questa discussione o comunque o comunque con la schiena dritta credo che sarebbe proprio il caso di sgranchirci un po' le gambe prima di finire su una nave e doverci stare fermi per altro chissà quanto e Kizuno è un po' preoccupato soprattutto tra di noi ma qualcuno l'ha mai presa eh Kizuno di certo no forse un battello in un fiume ma neanche in verità perché i fiumi che girano per per Kizuno e Mori arrivano magari alle ginocchia io osservo anche la pergamena che ci ha lasciato lo nobile autono e con il primo accenno di ironia e sorriso divertito Shiba osserva la pergamena osserva Doji osserva Kizuno forse è il caso che teniamo ben in occhio la pergamena questa volta beh forse non la tengo io mi massaggio la fronte e conferma il fatto che certe problematiche non lo hanno certi turbamenti come gli incubi dello Shiba anche il Kizuno non li ha persi certi problemi uscendo faccio estendo il braccio verso la guardia e faccio un fischio al gufo credo che se il gufo non ha fatto a pezzi la guardia insomma continuiamo per i nostri passeggi prima di poi vedi che però il gufo ha preso posizione sul portale della casa e la guardia ha ripreso il suo posto di guardia quindi in qualche modo si sono divisi nessuno dei due ne porta i segni però come dire adesso sono rispettosi tre metri di distanza l'uno dall'altro no ma ci facevo ci facevo conto che succedesse non volevo mica c'è l'unica cosa che mi ha chiesto con gli occhi magari di lasciare il gufo fuori allora glielo ho messo in spalla per sai così per dispetto sono sempre comunque una volpe ok quindi fate due passi sulla come dire sulla la prima la prima campagna fuori dal villaggio oppure se volete avete anche della spiaggia se non appena uscite dal villaggio nel villaggio sicuramente è costruito un porto quindi è stato scavato per l'accesso alle navi eccetera ma appena fuori come dire siete in questa zona veramente piacevole dopo i rigori dell'inverno nelle famose terre della gru famose per la loro bellezza placida io propongo la spiaggia in modo proprio per curiosità siete vestiti da da viaggio oppure siete vestiti da corte come dire oggi da corte credo che avevamo l'occasione effettivamente di prepararci visto che ci ha fatto aspettare esistono dei vestiti da viaggio beh diciamo quando combatti hai il il kimono da duello insomma mentre appunto ho il kimono da duello mentre adesso ovviamente dici sei vestita da signora come si deve a una signora eh sì cioè il kimono da duello il kimono da pranzo il kimono da cena il kimono da piacchiere il kimono da viaggio non esiste il chizone stranito assaggia assaggia la sabbia questa garra senza consistenza salata quanto sale e osserva la direzione verso la quale possiamo presumere che siano queste isolette della Madre ci vede qualcosa da questa costa o è lontanissimo no è molto lontana giusto per darvi una misura ok questa è la zona meridionale del 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 rokugan questa ombra verde sono le terre della gru che tiene tutta la costa praticamente orientale tranne una piccola parte a nord che è della Fenice e queste sono le isole di fronte alla parte meridionale della costa del del continente insomma ci sono il gruppo delle isole dette delle spezie della seta e da quel che ne avete capito se avete qualche dato di geografia o se no comunque lo capirete a breve voi dovete andare a destra dell'ultima isola indicata su questa mappa bello quindi diciamo che prendete dove c'è scritto M6 e andate a destra oltre il bordo della mappa su un'isoletta che sarebbe grande come un puntino diciamo che gioia ma voi sapete cosa c'è cosa c'è oltre quelle isolette non lo sappiamo domanda c'è mai stato qualcuno che ha attraversato l'oceano voi sapete che da oltre l'oceano vengono i gaijin voi avete dei contatti con i gaijin ci avete anche fatto una guerra dei secoli fa e adesso ci sono delle piccolissime ambascerie gaijin nelle terre della tortuga che è un clan della tortuga che è l'unico che ha l'autorizzazione imperiale per poter come dire aver rapporti per poter trattare con i gaijin e quindi c'è una zona immaginati come un ghetto portuale dove le nave gaijin possono attraccare e muoversi solamente lì se fanno un passo oltre a quello che è il ghetto dentro l'impero vengono uccisi a vista però insomma c'è questa come dire questa finestra di apertura diplomatica insomma ma ma solo per per come dire conoscersi e gentilmente spiarsi a vicenda ecco per evitare che scoppi un'altra guerra come è già scapitata secondo me i gaijin sono un po' come gli oni solo che non puoi esorcizzarli sì beh ma secondo voi i gaijin sono delle cose senza anima perché sono peggio degli emin hanno questi occhi bovini che li rendono evidentemente animali vestono di pelle di cose morte cioè per voi sono effettivamente dei demoni non hanno niente di umano di civile hanno un sacco di problemi quelli che vengono dal mare e ne portano da noi comunque cercando solo quelli dell'unicorno e quelli dell'amante che hanno a che fare con quelli e guardo la zucco mi si agita un po' il gufano che so dell'unicorno io no però da quanto ho capito porti una sciabola io spezzo un attimo il momento di dialogo perché ero perso a guardare l'orizzonte e comincio a parlare in modo anche un po' sgarbato forse tra me e me ma verso di loro anche da ciò che so Togashi Sama non è un bushi e realizzo il fatto che probabilmente li ho interrotti quindi mi immobilizzo per un attimo no hai fatto bene a interrompere perché ovviamente Kitsune ha fatto un commento inappropriato qualcosa tra l'altro si sta anche agitando il gufo anche il gufo ha capito che Kitsune era fuori linea dunque c'è qualche penna di gufo che svolazza in giro è agitato perché arriva al bare dunque cerca di calmarlo e fa e si duellano sul bordo del mondo mi schiarisco la voce da ciò che so è un nobile monaco questo spiegherebbe anche il perché di un duello così lungo forse sarà un duello spirituale o verbale forse entrambi forse di più come minimo un duello di scrittura eppure caio del granchio appartiene a una nobile famiglia di costruttori annuesco fingendo di saperlo ma chiaramente senza aver la minima idea della cosa dunque la domanda è come preparare un duello se non abbiamo idea di che tipo di duello sarà e c'è questo silenzio sulla spiaggia e se fosse un manga passerebbe il merlo ma che fa esatto con tutti quanti che nella mente dicono ma perché non l'abbiamo chiesto per quanto sia una domanda secondaria io mi chiedo anche perché proprio noi comunque Kitsune cerca di rispondere dopo pensare un po' e fa beh vorrei saperlo anche io però in quanto ad arbitrare il duello alla fine in qualsiasi cosa si può trovare dell'arte e dunque della competizione e l'arbitrio lo possiamo fare secondo dunque le regole del Bushido ed è un sacco fiero di questa uscita lo servo annuendo mi sembra strano che non abbiano scelto qualcuno di più direi abituato a rapporti di conte di corte a parte Doji-san beh non sono conosciuto per le mie abilità a corte e con tutto l'onorevole rispetto che porto per voi chi sono sanna non credo voi vi troviate a vostro agio nell'organizzare una cosa simile ed incrocia le braccia ma forse sbaglio lo servo con un mezzo sorriso ti faccio una domanda Antonio ma gli Shugenja comunque sono dei sacerdoti è possibile che di rito possano anche essere chiamati spesso a diciamo arbitrare dei duelli o organizzarli o così non è piuttosto una cosa da Bush considera che l'arbitrio di un di una competizione la può la può fare chiunque nel senso che se viene fatta una competizione di poesia e tu hai un ospite illustre dai a lui il come dire il titolo di arbitro quindi come dire è un titolo onorifico che concedi a una persona per dargli lustro il fatto di arbitrare in queste cose e comunque considera che i Shugenja sono cioè tu devi vederli molto più come come i bushi nel senso che voi studiate i kami ma per farne un'arte per farne una tecnica sono di solito i monaci che hanno l'aspetto religioso inteso come il proprio lo studio della filosofia dell'equilibrio della vita eccetera eccetera poi possono esserci spadaccini filosofi come anche Shugenja filosofi quindi religiosi però il fatto di essere Shugenja in sé è semplicemente che tu hai una via diversa dalla via della spada ma come dire sei un'arma del tuo signore e come tale servi sì poi vabbè che il fatto che io utilizzi o posso utilizzare i kami come arma quello mi spinge a dovermi comunque inoltrare in un discorso sì sì ma ti dico è solo per dire che non è da dare per scontato che gli Shugenja siano anche spirituali possono essere come dire possono limitarsi a studiarlo tecnicamente tu fai una preghiera alla quale sai che il kami è obbligato a rispondere con degli effetti reali puoi farlo senza nessuna come dire applicazione filosofica o studio delle fortune o della grande ruota celeste capito può essere anche proprio una cosa da così molto fit for world ok ok no beh dico ai miei compagni che se siamo stati chiamati forse è un po' ingenua questa cosa però se siamo stati chiamati noi tre c'è un motivo probabilmente dato per scontato che abbiamo le capacità per arbitrare o per presidiare su questo duello su questa su questa sfida allora non risco io sollevo il dubbio da 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 persona depressa o probabilmente hanno chiamato noi perché nessun altro se ne sarebbe occupato e su questo suonano le onde del mare sorride magari anche stavolta dico cercando di ravvivare un pochino l'atmosfera c'è lo zampino di bayoushi san buoni kami chizune fa un gesto che non gli avete visto fare prima una specie di gesto caratteristico per tener lontana la yella e doji come reagisce a questo nome prendo la bocca mentre rido beh direi che abbiamo una nave da prendere ed oggi si gira e se ne va mi immagino questi da fare ahimè e cercare di capire qualcosa magari mentre saremo a bordo darò un'occhiata alla pergamena allora visco ok fate su tutti quanti i vostri averi personali c'è come dire una una scena in cui voi sistemate tutto quanto avete all'incirca il metà pomeriggio per fare questo o per ordinare che venga fatto insomma sicuramente il personale della locanda è ben disposto a farlo e scoprite che vi sono stati recapitati dei soldi dei cocu da parte dell'automo che vi ha consegnato questa pergamena e quello probabilmente era il suo riferimento al fatto che state andando letteralmente in tanta malora e quindi forse ci vorrà qualcosa di un po' più concreto che non la vostra parola sul fatto che qualcuno coprirà i vostri costi diciamo perché di solito funziona così nel senso che quando sei in missione per qualcuno tu vai ti muovi e come dire poi con le tasse dell'anno successivo le spese i costi che gravano sulle azioni che avete fatto vengono compensati in pratica vengono rifusi da colui che vi ha mandato a fare quelle cose che di solito è il vostro daimio se siete in terre lontane o fuori dal vostro clan è buona norma come dire pagare in moneta assonante per quanto questo sia fastidioso umiliante perché sapete che alla fin fine come dire questo facilita un po' la povera gente che capita anche che vi dicono debba mangiare ogni tanto no non è vero e non può aspettare la stagione dopo per per mangiare avete qualcosa di particolare da fare durante questo io sì queste ore vai io prendo in parola quello che ha detto Otomo ovvero che ovvero che il l'impero ci è vicino e quindi io lascio il mio mio stallone nella stalla della locanda a spese dell'impero che non torno perché non me lo porto in nave su questo non c'è nessun dubbio anzi probabilmente lo sposteranno fuori in come dire in una zona di campagna e li lasceranno ampio margine per per muoversi liberamente in modo che non non distrugga non distrugga niente non uccida nessuno cioè lo trattano come se fosse veramente un animale a metà tra il sacro e il demoniaco nel senso che potrebbe fare veramente degli enormi danni quindi probabilmente lo porteranno in un pezzo di terra di proprietà dell'Automo recintato e lo lasceranno là che distrugga tutto ma chi se ne frega del raccolto di quel paio di campi che questo vale per tenere come dire in buona pace la tua cavalcatura la semplice nobile vita di un destriero io già me lo immagino al ritorno sai quando lasci tipo gli animali da qualche parente devo partire ti lascio il gatto e te lo ritrovi che praticamente è una specie di hot dog che cammina sulle zampette corte no no perché nessuno osa avvicinarlo questo quindi proprio piuttosto capito questi in quattro giorni costruiscono un recinto alto tre metri su due campi di terra e lo lasciano là e lo trattano meglio probabilmente di quelli che hanno costruito il recinto perché è un cavallo gaijin giusto? ormai come dire sono connaturati sono dell'unicorno però sì l'unicorno li ha rubati nell'estremo occidente da quel che ho capito comunque però non è chiaro penso siano cavalli arabi sì sono i sauri perché teoricamente l'unicorno è andato talmente a ovest che è arrivato in Medio Oriente guarda effettivamente Kizun è abbastanza affascinato di questo cavallo e ultima cosa ma non ci metto un secondo chiaramente prima di partire scrivo una lettera assaiaca e niente la informo che mi sto spingendo nelle terre della Mantide e anche oltre e che pertanto sarà piuttosto difficile comunicare nei prossimi mesi sicuramente nel prossimo mese e pertanto qualunque comunicazione deve essere recapitata nel luogo nel luogo in cui io sto scrivendo la lettera quindi in questa locanda e lascio anche detto a chi se ne occupa che la mia corrispondenza privata è privata vedi che arrossiscono e chinano la testa nel senso che questo mette in dubbio il fatto che loro possano fare una cosa del genere ma loro sanno benissimo che la loro vita dipende da questo e quindi mai oserebbero chinano la testa si scusano se hanno se lei onorevole samurai san coltiva questi dubbi ma mai fosse che noi interferiamo sui vostri affari e lascio detto che comunque per i loro servizi gli destinerò del del pregiato te che ho l'opportunità di coltivare la vostra gentilezza è eccessiva nei nostri confronti samurai sama e chinano la testa lui e praticamente i tre lavapiatti che aveva dietro e anche quelli che tu non vedi dietro la porta di servizio probabilmente c'è qualcuno che dorme e si inchina nel frattempo esattamente shiba kitzune avete qualcosa di particolare per prepararvi per il viaggio oppure andiamo direttamente alla nave importantissimo prima di mettere piede su questo congegno diabolico che flutua sull'acqua fangera grandissima prendo una grossa manciata di terra e me la metto in tasca poi salgo sulla nave ok io ne approfitto per mandare una lettera al sensei spiegandogli che non ci sarò per non sarà maggiungibile che sono arrivato a destinazione per svolgere i compiti affidativi dell'impero e ritornerò quanto prima possibile alle terre della finizione ok la nave è la nave come vi hanno detto di Dai Doji Bukkari è appunto un Dai Doji e vedete che la nave ne porta le insegne nel senso che fa parte della flotta commerciale che è sotto il patrono della famiglia Dai Doji perché alla fin fine comunque per quanto tutti quanti abbiano schifo rispetto a questa pratica barbara che è quella del commercio a tutti gli effetti comunque l'impero ha un'assurda ambivalenza come lo ha su tutte quante le cose del fatto che alla fin fine poi di questo ci vive e in particolare la gru di questo ne ha fatto come dire un'enorme leva politica sul fatto che è uno dei clan più ricchi avendo le terre più fertili praticamente di tutto quanto l'impero altro come dire pilastro commerciale dell'impero è appunto la mantide che per prima pur essendo un clan minore ha come dire padroneggiato la navigazione oceanica nel senso che riesce a muoversi con un'agilità enorme rispetto agli altri tra le isole e la terraferma e lungo tutta quanta la costa facendo anche rotte come dire abbastanza lontane dalla costa mentre gli altri clan di solito si limitano a costeggiare la costa andando di porto in porto e poi muoversi solamente verso l'esterno sul minimo necessario insomma e questo gli ha permesso un vantaggio economico che adesso gli altri stanno tentando di inseguire in qualche modo il capitano è una persona estremamente cordiale riservata venite caricati sulla nave voi e tutti quanti i vostri averi vedete che la ciurma è composta per la maggior parte di uomini ma ci sono anche un paio di donne sono probabilmente tutti quanti come dire uomini liberi non sono samurai sono servitori artigiani gente che comunque vive col suo della sua professione e salpate il prima possibile il capitano vi spiega che lui sta facendo una rotta verso l'isola di Kaze che è praticamente l'isola principale di questa provincia che è un gruppo di isole a est quindi un gruppo di isole che dà verso l'oceano aperto di quello che è l'arcipelago delle isole della mantide a Kaze c'è anche il governatore di questa provincia al quale probabilmente dovrete dovrete riferire per poi fare quello che dovete fare insomma vi spiega che lui non non ne ha avuto mai rapporti rapporti estremamente vicini insomma lo conosce per nome e fine insomma lui comunque si limita a fare questo viaggio portando in là dei tessuti che che loro hanno prodotto probabilmente per poi smerciarli verso le corti della mantide e poi probabilmente tornerà con un carico di quelli che sono i prodotti tipici delle isole della sete delle spezie e quindi frutti esotici pesce d'altura oppure anche dell'artigianato materie prime legni particolari e cose del genere hanno vele queste barche o vanno remi no no hanno le vele sono dei delle cobune mi sembra che si chiamino sono quelle navi a vele quadrate a fondo piatto dunque mentre questo capitano vi spiega tutte queste cose nel sottofondo c'è la scena di Kitsune che sta intimando lo scoiattolo di scendere dall'albero maestro vedi i marirai abbastanza divertiti in realtà dalla presenza dello scoiattolo onorevole scoiattolo torna giù gli fa il classico cenno della croce che significa semplicemente o scendi giù o taglio l'altro maestro vabbè ok dopo aver bazzicato in giro probabilmente in qualche modo in qualche modo ritorna ok il viaggio verso il verso quest'isola vi occupa probabilmente un poco meno di una settimana di navigazione che che scorre tranquilla e arrivate appunto all'isola di di case io nel tempo del viaggio mi studierei un attimino la pergamena ci ha dato Tomo anche per magari per trovare qualche indizio ulteriore la sbircio anche io ma dalla dovuta distanza prevede le mie esperienze con pergamene ok io mi affianco invece allora la pergamena in realtà è molto come dire molto sintetica molto formale come se fosse un elenco puntato insomma di cose ti rendi conto che non sono probabilmente gli ordini che lei ha ricevuto perché non sono intestati a lei sembra più un foglio che lei ha compilato a uso vostro come dire come se fossero appunti personali ma scritti con l'intenzione che li possano leggere anche altre persone insomma in modo da essere abbastanza chiari abbastanza utili anche in realtà è segnata è segnata l'isola è descritta sommariamente come un piccolo atollo con un ridottissimo villaggio appunto di di emin sulla costa occidentale l'isola è comunque un'isola vulcanica come la maggior parte delle isole dell'arcipelago e non è famosa per niente nel senso che non ha niente di particolare né tipico sembra che abbia fatto appunto delle ricerche su questo tipo su quest'isola e rimarca il fatto che sia una cosa del tutto anonima e oltre i nomi come dire degli illustri Kaio Izumo e Tugashi Fusae vedi a fianco ai loro nomi una nota che ti fa capire a tutti gli effetti quale sarà il il tono di questa di questo confronto vedi che è anche indicato il il luogo della dello scontro nel senso che nel nel piccolo villaggio sembra esserci da quelli che sono i registri una una piccola pagoda che quindi sarà come dire destinata ad ospitare lo scontro e quella nota che ti dicevo a fianco dei nomi è che sono entrambi indicati come noni dan di go quindi giocano questi giocheranno per settimane perché ci mettono una settimana a fare turno è perché è un gioco difficilissimo adoro questa prova avete forse sentito insomma ho visto però sapete che una partita di go tra esperti può durare anche molto nel senso che può essere che si passano quattro ore fissando la scacchiera per decidere una mossa figurandosi tutta quella che può essere la strategia e le conseguenze come dire ragionando in avanti per le prossime dieci venti mosse e capendo come gestire la scacchiera nel leggere la strategia dell'altro gentaro scuote la testa ma sorride e all'improvviso sembra molto più allegro anche se su una nave sembra prendere gusto all'esperienza è giusto per dire considerate che probabilmente per come sono indicati queste sono le due persone più abili dell'impero come i due scacchisti più importanti di tutta Europa che si scontrino e da qui capite il come dire il motivo della segretezza di questo di questo incontro insomma perché a tutti gli effetti se fosse reso pubblico potrebbe dare adito sicuramente a delle leve politiche oppure di corte in modo da accreditare o screditare uno dei due clan beh certo anche perché comunque essendo un gioco di strategia esattamente una vittoria pubblica sarebbe poi reclamata per anni a venire insomma perché sarebbe effettivamente come dire il campione imperiale di Go colui che è più in gamba di tutti e pertanto potrebbe addirittura arrivare a una possibile a un possibile reclamarsi di un titolo come campione di smeraldo essendo il miglior stratega quello no perché poi bisogna essere anche però capito potrebbe essere sicuramente un consigliere per il cosa per il come si chiama il consigliere di guerra dell'impero sì beh comunque è una leva politica è sicuramente una leva politica che dimostra un pensiero sopraffino ma posso dirti i cortigiani farebbero come dire anche solamente di una di una cosa molto più leggera un'arma con cui con cui fare degli enormi danni in una corte una cosa del genere sarebbe l'equivalente politico di una di una bomba nucleare insomma sì ma Kizun Gentaro vede questa cosa con molto più ingenuità e vede effettivamente il gioco e la purezza di questa sfida e vede con molto ottimismo questo viaggio tant'è che si scossa dalla pergamena e si appoggia sul bordo della nave e guarda l'orizzonte non vedo l'ora di arrivare forse potrò imparare una mossa o due dai maestri anche se sospetto che avremo poco tempo di guardare il loro gioco se dobbiamo isolarli e proteggerli mentre decidono di fare le loro mosse io ho timore che essendo gli arbitri forse avemo fin troppo tempo per guardarli si dà che la pergamena a tutti gli effetti e non l'ha mai nominato neanche l'automo non vi nomina ad arbitri ma voi siete solamente come dire con lo scopo che nulla interferisca o disturbi questi due che sono assolutamente abili e capaci di badare a loro stessi quindi voi fondamentalmente siete i valletti e quelli che devono tenere le cose tranquille bene io comincio a figurarmi in testa quante persone o quante cose ci servirebbero per fare tutto quanto sicuramente cibo acqua cose comode su cui stare seduti per lungo tempo ma su cosa sta facendo la lista ma anche servitori comunque eh sì e